La persona a cui io mi ero affidato per studiare, con cui avevo studiato insieme, che reputavo molto interessante, molto intelligente, era andata prima di me e l'orale era finito con il professore che le sbatteva il libretto per terra e le diceva «Lei non farà mai nulla nella vita!». Io mi sono alzato e me ne sono andato, perché ho detto «Se lei non farà nulla nella vita, io cosa farò?».